Ci sono le robe nuove che a nostro avviso sono attuali senza essere brutte, poi ci sono le robe intermedie che sono quelle che la gente comunque che ci segue conosce molto bene e poi ci sono le robe vecchie per le quali la gente che ci segue sballa, che è un'altra storia, e che possono far pochi. Per cui fai conto che noi abbiamo addirittura del materiale vecchio, molto vecchio, di più di dieci anni fa, io che mio fratello, che la gente vuole sentire che è di altissima qualità, quindi secondo me la nostra evoluzione c'è stata, però è già partita dal 300%, adesso siamo al 900%, infatti stiamo facendo tanti dischi in continuazione e io quando mi chiedo cosa stai facendo vi faccio sentire il disco che ho fatto due anni fa. Lime raffica, chi ne traffica, le tratta come un gran valore, come strana morale alla sua tattica, per avvicinare un cuore a un altro cuore, hip hop d'autore, contro il rap imprenditore, pronto per il colpo al cuore del grosso intenditore, arriva a domicilio, attivo il buono, il brutto e cattivo, approvo il suono unto e consunto, messo a punto da chissà che è tassativo, stringere i tempi in tempi in cui riesci a vincere, basta non essere sinceri e fingere, ma le olimpiadi delle infame alle regalo a chiasmania di fama, prenditi il podio dell'odio, io sono a casa in tana, a fare basi compatte, col cannone in ciabatte, mentre corri dietro a giacche e cravate per farti sbattere, io resto qui a combattere, capito? Resto qui a combattere. Nel gioco delle rime dirette, ho il fuoco, ho il fuoco, ho il fuoco, nel gioco delle rime dirette, ho il fuoco, 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 ho il dal pogo al winey wine dal sottosuolo fino in cima all'imalaia c'ho il flusso fecondo che inguaia scusami provoco riflessioni il disco te lo regalo mio caro pagami le ripetizioni rappers falliti fanno recensioni c'è recessione non mi interessa la tua riflessione sulla mia eventuale regressione se c'è repressione scendi strada in manifestazione non col bastone siamo persone nessuno bietterà se saremo un milione per i politici niente stipendi o pensione avete rubato spingendo menzogne alla gente e io non vi concedo niente punto il dito sulla tua stenzione con più di una motivazione lo sai che c'ho il fuoco nel gioco delle rime dirette c'ho il fuoco il fuoco il fuoco il fuoco nel gioco delle rime dirette ho il fuoco il fuoco il fuoco il fuoco nel gioco delle rime dirette ho il fuoco verso? del 2009 ma no ma no ma l'ascoltatelo adesso ma non so che pronto può farlo chi si sente pronto può farlo lo dovete fare oltretutto reperire il disco è molto complicato come? perché? senso è gratissimo il myspace quindi è difficilissimo cari amici è difficilissimo dovete andare semplicemente sul myspace di ESA e ovviamente scaricatelo oh god grazie a tutti